Signori, grazie a tutti. Io do il benvenuto anche a nome del Comitato Scientifico di Civiltà Bresciana e del suo Presidente Mario Gorlani. Grazie davvero a tutti per essere qua. E' stata una mostra nata proprio con un certo amore, con un certo affetto perché insieme a Piero e poi ad Antonio abbiamo pensato, prima di tutto voi sapete che i Camuni sono una setta, bisogna dirlo, una setta. E quindi ci siamo visti molto tempo fa. Loro avevano questo progetto, che peraltro è un progetto molto più ampio rispetto a quello che voi vedete nella nostra bella sala del corridoio della Meridiana. Però l'idea è stata quella appunto con Brescia e Bergamo di poter offrire alcune fotografie dell'ingegner Tagliaferri, Antonio Tagliaferri, scusate Giovanni Tagliaferri. E soprattutto l'idea è stata quella di raccontare una storia fatta di immagini proprio a cavallo tra queste due città, attraverso la valle, la Val di Scalve, un po' di Val Camonica, eccetera. Io volevo citare solo una cosa, un pezzettino di Franco Rapuzzi, che diceva a proposito dell'ingegnere. Pur non esercitando come professionista, supera l'atteggiamento meramente amatoriale, utilizzando modernamente la fotografia, quale supporto al proprio lavoro creativo, certo, ma contemporaneamente interpretandola come occasione tecnica per sperimentare e documentare momenti non solo ludici ma anche ludici. Quindi è stato proprio un piacere dare la possibilità di far restare alcuni giorni questi bei pannelli con queste fotografie. Poi dell'ingegner Tagliaferri, che è un personaggio straordinario, il nostro don Antonio Fappani, che se n'era anche innamorato, ha scritto due o tre belle pagine anche sul diciottesimo volume dell'enciclopedia e quindi poi anche belle presentazioni fatte da Valerio Terraroli. Sì, ci sarebbe tanto da dire, ma siccome noi questa sera faremo un giro sulle fotografie, lascio proprio a questo dettaglio, a questo momento, la possibilità di esprimere un altro ingegnere, non solo il decoratore, non solo il personaggio, ripeto, di grande intelligenza, ma poi ce lo racconteranno i nostri due ospiti. Devo dire che fra tutte queste, insomma, questo avviatico alla mostra c'è sempre il nostro don Gabriele, che con grande passione, poi anche adesso ricordavamo alcuni momenti con don Fappani, e quindi don Gabriele è stato un po' lui l'elemento centrale su cui abbiamo costruito tutto. Quindi ancora grazie, passo la parola a don Gabriele. Grazie. Volentieri ho colto l'invito a presentare questa mostra, che ritengo abbia un particolare valore per quattro motivi, che presenterò velocemente. Innanzitutto una mostra fotografica, e sapete che la fotografia, rispetto alla pittura, alla scultura, al design, è stata fino a poco tempo fa la cenerentola. Chi faceva le fotografie era detto paparazzo, e c'era quasi una identificazione fra la foto strappata a momenti vari, che faceva colpo sui giornali, e l'arte fotografica. Si sta riscoprendo sempre di più la fotografia come arte, e lo è, e basterebbe anche pensare ai premi internazionali che si danno alle fotografie, sempre più importanti, sempre più interessanti, e soprattutto quelle che documentano un mondo passato. Mi fa fede ad esempio la rubrica del Giornale di Brescia, come eravamo, con foto del secolo scorso, rubrica molto seguita. Quindi un primo pregio di questa mostra è che propone la bellezza artistica della fotografia. Fra l'altro la civiltà bresciana deve aver già fatto mostre non di pittura. Penso anche a quella dell'immaginetta dei Santini, fatta con Don Antonio Fappani tanti anni fa. Quindi si continua la bella tradizione di far conoscere tutta la bellezza di quelle arti considerate un po' minori, ma ingiustamente. C'è un secondo motivo. La mostra riguarda fotografie dell'ingegner Giovanni Tagliaferri, nipote di quell'Antonio Tagliaferri, autore dello scalone della loggia, del santuario delle grazie, e per questo mi è particolarmente caro, ma su Giovanni e il rapporto magari con Antonio ne parleranno, chiamiamoli discendenti, dalla famiglia Tagliaferri. Io mi limito a dire che è considerato, negli scritti di storia locale, sono considerati Antonio e Giovanni rappresentanti illustri dell'architettura e della cultura bresciana. Quindi questa mostra rende anche giustizia alla conoscenza di questi grandi della cultura locale del XIX secolo e del nostro secolo scorso. C'è poi un terzo motivo che sottolineo particolarmente anche per motivi professionali. Si dice che chi ha fatto studi scientifici e non umanistici non abbia lo sguardo poetico, non sia sensibile alle cose belle e ai particolari che parlano bene della vita dell'uomo, della sua esistenza, tanto quanto come le visioni generali. Ecco, vi accorgerete invece che questo ingegnere, che quindi era un uomo di precisione scientifica, aveva uno sguardo poetico. Vedrete famigliole colte nella loro cultura, che era proprio quella di fine secolo, inizio secolo, anche col modo di vestire. Vedrete scorci panoramici molto belli dalla Val di Scalve, di Vilminore e delle frazioni o dei piccoli centri vicini. E vi accorgerete davvero quanta poesia c'è. Fra l'altro, permettete un riferimento biografico. Quando ero giovane prete, per 3-4 anni, con i ragazzi dell'oratorio di Palazzolo, andavamo d'estate ad Azzone di Scalve, in una baita che apparteneva alla parrocchia, ma molto fuori, e bastava fare un cammino in salita, ma allora potevo farlo, breve, attraverso i boschi, attraverso i pascoli, che si poteva poi vedere molto bene la Val di Scalve, Vilminore, e devo dire che i momenti poetici di quegli sguardi si riconoscono anche in queste foto, anche se molto è cambiato, ovviamente. ma è anche questo un pregio della mostra che ci permette di confrontare un mondo che non c'è più, che era quello rurale, era quello montano, agricolo, con la vita attuale. E infine un ultimo elemento, e chiudo, mi sembra che questa mostra, collocata nell'anno di Bergamo-Brescia, capitale italiano della cultura, sia particolarmente significativa. Le due province, con questa proclamazione certamente prestigiosa, si sono riscoperte più vicine rispetto alle rivalità che sempre le hanno caratterizzate. e devo dire che nel Bresciano c'è un territorio di cerniera. Ho vissuto un po' di anni a Palazzolo sull'Oglio, quello è certamente uno di questi territori. Pensiamo a tutta la valle di Volpino, Costa Volpino, diocesi di Brescia e provincia di Berco, con l'Overe, capitale, e la Val di Scalve è una di queste valli che unisce il territorio bergamasco con quello brisciano. Anzi, gli abitanti, la James della Val di Scalve è direi un miscuglio di brisciani e bergamaschi. Quindi questa mostra è anche un bel omaggio anche a questo anno di Brescia-Bergamo, capitale della cultura. Grazie a Don Gabriele, lascio la parola ad Antonio Regazzoli. Buonasera a tutti. si sente, sì? Io ho la voce molto alta perché spesso mi dicono di non urlare e se si sente male ditemelo. Anch'io sarò breve e mi sono preso il compito o mi è stato affidato il compito di illustrare così brevemente alcuni cenni sui protagonisti di questa mostra che sono innanzitutto il primo protagonista e ovviamente il fotografo questo ingegnere Giovanni Tagliaferri che è il nostro bisnonno o meglio il nonno di alcuni presenti in sala ma comunque lui protagonista ma protagonista come membro della famiglia Tagliaferri che in questi ultimi anni mi sono messo a studiare con un impeto genealogico che mi ha preso e quindi se mi dilungherò spero che qualche mio parente mi farà dei segni per dirmi che sto uscendo uscendo dal seminato perché queste ricerche sono appassionanti e coinvolgono molto chi inizia e quindi diciamo che cerchiamo di inquadrare brevemente nel tempo e nello spazio i personaggi e quindi i protagonisti da una parte Giovanni Tagliaferri e la sua famiglia e dall'altra la componente che potremmo definire femminile la valle di Scalve che in realtà per me è la vera protagonista di questa mostra perché come vedrete tutte le fotografie sono fatte in valle di Scalve e quasi tutte come forse vi racconterà meglio il cugino Piero in occasione del matrimonio del nostro Giovanni il nostro Giovanni che quindi nasce appena passata la metà del 1800 nel 1864 e purtroppo nasce subito con in modo eventi tragici perché la madre muore nel darlo alla luce o nell'immediata periodo del postpartum e tra l'altro c'era già stata una sorellina morta bambina prima che lui nascesse quindi nella famiglia il suo arrivo non era certo stato arrivato con in una famiglia tranquilla comunque non abbiamo proprio notizie dirette su come ha passato l'infanzia diciamo le scuole le ha passate in collegi seguendo anche un po' la professione del padre che era medico e che quindi prima era medico condotto a Nuvolento dove il nostro Giovanni è nato poi ha professato a Bergamo e anche il nostro Giovanni ha frequentato mi sembra il liceo a Bergamo prendetela con beneficio di inventario che comunque nella seconda metà dell'800 questa famiglia Tagliaferri era comunque una famiglia che aveva raggiunto potremmo definirla l'alta borghesia bresciana e se si pensa però che era residente a Brescia in modo stabile e quando nacque il Giovanni Tagliaferri da poco più di 50 anni perché la famiglia si è trasferita definitivamente dalla Valle di Scalve e precisamente da Vilminore di Scalve a Brescia nel 1805 quindi però in quei 50 anni effettivamente la famiglia è entrata in modo molto molto forte nella vita bresciana diciamo appunto dell'alta borghesia addirittura la nonna del Giovanni Tagliaferri era una contessa di una famiglia molto molto su la famiglia Carini che il suo omonimo nonno Giovanni Tagliaferri aveva sposato intorno al 1820 e non abbiamo notizie chiare di come si è sviluppata questa vita della famiglia Tagliaferri nella prima metà dell'Ottocento a Brescia e però sappiamo abbastanza bene come sono come si si è svolto il passaggio dalla Valle di Scalve alla città alla metropoli possiamo dire calcolando che si veniva da una valle che è veramente molto molto isolata e impervia e in pratica il cuore di questa vicenda si concentra sul bisnonno del nostro Giovanni che si chiamava Domenico che era comunque possiamo dire l'amministratore di una famiglia di cognome Capitanio che resideva a Brescia ormai da un paio di secoli dal 1600 ma che però aveva una grossa presenza nella Valle di Scalve perché il Capitanio o meglio i Capitani di Scalve fin dal 1200 erano stati investiti di titoli feudali ed erano diventati proprio anche i feudatari della Valle di Scalve non molto ben visti dagli Scalvini perché il loro feudo è durato una quindicina d'anni in modo ufficiale ma poi gli Scalvini hanno riscattato pagando al vescovo di Bergamo che aveva concesso il feudo al Capitanio si sono comprati l'indipendenza e questi Capitanio sono stati un po' cacciati poi nel corso dei secoli sono andati venuti e hanno comunque fatto un po' il bello del brutto tempo nella Valle con un brutto episodio che proprio nel 1600 uno di questi Capitanio ha commesso un omicidio è andato a uccidere un notaio della Valle per vendetta perché questo notaio l'aveva fatto imprigionare e gli Scalvini poi una volta preso questo Tommaso Capitanio colpevole di amicidio alla fine dopo alterne vicende che non vi racconto perché sono troppo lunghe hanno raso al suolo la dimora del Capitanio ed è il posto dove adesso sorge la chiesa plebana la grande chiesa di Vilminore che se quelli di voi che non l'hanno vista merita sicuramente una visita non solo per le bellezze della Valle ma anche per questa chiesa e per questo campanile di cui io e di cui io sono innamorato perché è una cosa è una cosa che uno non se l'aspetta in un paesino di montagna comunque quindi il nostro Domenico il bisnonno del Giovanni che era l'amministratore di questa ultima erede della famiglia Capitanio che era senza non era sposata senza figli questa signora Marta che era figlia di una Capitanio alla morte lascia in eredità ai Tagliaferri grosse grosse proprietà sia a Brescia e anche grosse proprietà nella Valle di Scalve e a questo punto nei registri parrocchiali che sono andato un po' a consultare questo Domenico Tagliaferri che all'inizio era definito agente di mercato o di mercanzia in questa famiglia di questa Marta Soldo alla morte della Marta Soldo diventa possidente quindi insomma l'eredità ha fatto fare un salto sicuramente nella scala sociale il figlio di questo Domenico anche lui Giovanni sposa la contessa Cecilia Carini e hanno i tre figli che sono uno il papà del fotografo del nostro protagonista Carlo che studia medicina diventa medico un altro figlio è l'Antonio che è diventato l'architetto diciamo di riferimento nella seconda metà dell'Ottocento nell'urbanistica bresciana e non solo bresciana e poi c'è il terzo fratello che è il fratello maggiore che si può considerare la famosa pecora nera che ogni famiglia ogni famiglia ha anche lui Domenico il quale ha pensato bene di far fuori molti dei capitali che la famiglia aveva ereditato e che quindi Domenico detto Nino è in famiglia lo zio Nino è rimasto proverbiale per essere insomma quello che ha fatto precipitare un po' le sorti della famiglia e infatti i due fratelli più giovani il medico Carlo e l'architetto Antonio a un certo punto l'hanno prelevato l'hanno relegato a Vilminore dove credo sia morto per evitare che continuasse a sperperare i beni della famiglia comunque il nostro Giovanni ingegnere diciamo che anche questa mostra soprattutto il cugino Piero ci ha tenuto molto anche perché è un po' un atto di riparazione perché è vissuto un po' sempre all'ombra dello zio architetto l'architetto Antonio è quello che nella famiglia ha avuto il peso più 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 forte è quello che ha dominato un po' la scena e il nipote Giovanni che ha seguito lo zio e l'ha affiancato nello studio e poi ne ha preso diciamo ha preso lo studio e ha continuato l'opera ma è sempre stato un po' in seconda in seconda battuta anche perché evidentemente il carattere non è un carattere esuberante che ci teneva a emergere però di sicuro ha collaborato molto con lo zio e dopo una volta anche morto lo zio architetto nella urbanistica presciana ha fatto cose importanti cito semplicemente anche solo il restauro del broletto che è forse l'opera che l'ha impegnato credo per una ventina d'anni è stata un grosso intervento e aspetti che qui avevo fatto già che io volevo parlare mentre no aspetta così ecco questo è il nostro ecco questa è l'unica fotografia non scalvina perché è presa nella casa tagliaferri di via Veronica Gambara casa che i tagliaferri hanno comprato nel 1824 e quindi e che per 200 anni l'anno prossimo si farà il 200esimo abitata dalla stessa famiglia senza senza soluzione di continuità e qui abbiamo invece suo papà che è il medico Carlo che è anch'esso una figura che merita merita due parole perché è un tipo originale di sicuro è lavorato in medicina e di quelli fortunati che ha dovuto prendere la laurea in medicina due volte perché si è lavorato in medicina a Padova sotto l'impero austriaco e proprio negli anni in cui cominciavano un po' i moti aveva evidentemente simpatie e tendenze anti-austriache e era appena laureato a Padova ma ha dovuto fuggire perché la polizia austriaca l'aveva un po' messo nel mirino è scappato è andato tramite la Svizzera è andato in Francia e poi con l'esercito francese è rientrato in Italia e ha partecipato alla battaglia di Magenta dove come medico e quindi e addirittura noi non siamo mai riusciti a vederle però si raccontava che vi sono delle lettere di ufficiali francesi che lo ringraziavano per la sua grande disponibilità coraggio e tutto e però una volta finita e cominciato il Regno d'Italia ha dovuto rilaurearsi perché la laurea sotto l'impero asburgico non valeva quindi a Pavia si è rilaureato in medicina e ha poi professato appunto come medico condotto a nuvolento dove è nato il Giovanni e dove purtroppo è morta la prima figlia Cecilia piccolina e la moglie nel dare alla luce il nostro Giovanni e poi ha professato molto da Bergamo con una specializzazione in otorino la ringoiatria ed era un personaggio che di cui non sappiamo tanto se non racconti e aneddoti lo dicono tutti un tipo un po' bizzarro che amava anche fare scherzi o e abbiamo anche qualche qualche esempio di grandi travestimenti ci sono appunto fotografie fatte probabilmente dal figlio in cui è travestito con fogge orientali piuttosto che insomma si divertiva e era grande amico del conte Teodoro Lecchi che era più giovane di lui era di una generazione successiva ma erano proprio amici fraterni e questa amicizia con la famiglia Lecchi è proprio molto molto pesante ed è durata poi anche con i nostri genitori e anche noi abbiamo mantenuto questi rapporti molto molto intimi e ci sono numerose lettere tra il conte Teodoro Lecchi e il nonno Carlo Tagliaferri che testimoniano questa questa loro intimità con soggiorni del Teodoro Lecchi a Vilminore e soggiorni del Carlo a Montirone piuttosto che in altre ville degli amici Lecchi mentre qui invece abbiamo raffigurato l'architetto lo zio Scapolo che però anch'esso ha avuto una grossissima figura che è molto molto presente che mostra alla nipote acquisita quindi la moglie del Giovanni Tagliaferri mostra uno dei suoi famosi acquerelli e qui introduciamo anche la famiglia manziana il Giovanni Tagliaferri il nostro fotografo sposa questa nini manziana anch'essa rampolla di una famiglia dell'alta borghesia e il padre della nini manziana era questo Carlo manziana che è stato uno dei promotori insieme all'architetto Antonio Tagliaferri del sodalizio l'arte in famiglia che nella seconda metà dell'ottocento promuoveva nella città di Brescia molte attività culturali in ambito artistico e sosteneva anche i pittori emergenti del locali quindi la vita in casa Tagliaferri che pure la famiglia Tagliaferri è sempre stata molto poco sociale potremmo dire quindi frequentavano i contilechi però non è che facessero ricevimenti o vite sfarzose anzi mi sembra che si poter dire che erano molto ruspanti avevano mantenuto la loro scalvinità la famiglia manziana era forse un pochino più 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 su però però insomma la vita artistica in casa era sempre all'ordine del giorno e quindi anche il nostro Giovanni anche da piccolino vedeva passare per casa lo scultore Guidoni il pittore Bertolotti e chi più ne ha più ne metta tutti artisti che 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 hanno lasciato il segno nell'ambito bresciano io mi sono già dilungato un po' no perché adesso volevo invece dopo vi lascio perché invece volevo a un certo punto parlare un attimo della valle di scalva che come dicevo per me è la vera protagonista della mostra perché il Giovanni sposando la nennima anziana pensa bene di invece di portarla a Venezia a fare il viaggio di Nosse dove la porta a Vilminore dove la famiglia Tagliaferri aveva costruito nel 1872 la villa di vacanza quindi nel paese che era e quello da cui aveva origine la famiglia loro che erano scesi e erano diventati residenti della città di Brescia avevano poi costruito una casa di vacanza che in effetti nell'urbanistica del paese è caratteristica perché ha una e la vedrete rappresentata anche in alcune delle foto è stata un po' costruita sul mi sembra che venisse definita allo chalet svizzero come ispirandosi a uno chalet svizzero e comunque è sempre stata una casa considerata di vacanza dove la famiglia d'estate si trasferiva presumo per almeno tre mesetti perché le vacanze erano quelle e sembra che il trasloco da Brescia a Vilminore della famiglia fosse epico perché ovviamente chi conosce la Valle di Scalve sa che nella seconda metà dell'Ottocento si poteva arrivare facendo la Via Mala che è questa stupenda strada che io adoro che purtroppo adesso è stata ridotta a lunghe gallerie quindi saltando quella che è la bellezza dell'orrido sul fiume Dezzo e sembra che addirittura partissero da Brescia col pianoforte perché la Ninì era una valente pianista non professionista ma valente pianista e portava in montagna il pianoforte e ci si immagina che lungo questa Via Mala stretta carretto col pianoforte incontrassero carretti che scendevano con la legna e ci si immagina come potevano essere gli incroci gli incroci comunque e adesso stringo perché la famiglia Tagliaferri quindi abbiamo detto viene da Vilminore ma in realtà in realtà l'origine è di un paesino ancora più piccolo di Vilminore che è un po' il centro politico amministrativo della Valle di Scalve fin dal Medioevo ma viene da una frazioncina che si chiama Pezzolo e si dice che viene da lì perché a Pezzolo adesso non tuttissimi ma quasi tutti ma fino a pochi decenni fa tutte le famiglie si chiamavano Tagliaferri e vi faccio vedere che paese è Pezzolo volevo togliere va bene non importa guardate la bellezza di questo micro paesino con la Presolana e lo spigolo della parete nord della Presolana che lo taglia e visto e questo è questo paesino è calcolato che ogni casetta è abitata da una famiglia Tagliaferri tanto è vero che negli archivi che ho consultato le famiglie nel 6-700 erano circa una ventina 15-20 famiglie ma tutte Tagliaferri e per distinguerle avevano tutti un soprannome che è il famoso Scutum lo Scutum è il soprannome che si dava ad ogni nucleo e anche adesso mi dicono che quando arriva il camion di Amazon per portare i pacchi e chiede dov'è Giovanni Tagliaferri tutti non si può sapere perché ancora ancora c'è questo problema comunque diciamo che nelle varie ricerche abbiamo trovato che scusate che la famiglia Tagliaferri la nostra famiglia Tagliaferri fino al 1711 risiedeva a Pezzolo ed era probabilmente una delle famiglie originarie quindi si va indietro di anche qualche secolo ancora e uno degli antenati dei nostri antenati nel 1711 passa a Vilminore in quanto rimane orfano a nove anni e viene preso in casa da uno zio attualmente fantomatico zio prete materno che era Vilminore lì compare negli archivi per qualche anno poi scompare per una decina d'anni e ritorna nel 1736 a sposarsi a Vilminore e da lì poi avrà il figlio Domenico che è quello che poi scenderà a Brescia ereditando un po' la fortuna per la famiglia e a seguire tutti gli altri antenati famiglia che poi è rimasta abbastanza semplice perché c'era sempre magari parecchi figli ma uno che si sposava e aveva figli quindi sempre una persona arriva il nostro Giovanni che è figlio unico alla fine e ha quattro figli purtroppo una piccolina a sette anni muore e grande tragedia e ci sarà una fotografia che rappresenta l'asilo che il Giovanni Tagliaferri fa costruire e che viene intitolato a questa figlia bambina morta Teresa Tagliaferri restano i tre figli superstiti che sono il Carlo Tagliaferri che è il nostro nonno e le due sorelle Annunciata e Antonia e quindi da queste tre figli vengono fuori tre famiglie che però generano ventidue cugini questi ventidue cugini che sono quelli della nostra della generazione prima della nostra avranno 49 eredi è la nostra generazione attualmente quella delle nostre figlie figlie è composta da 66 pronipoti aspettiamo il seguito quindi diciamo che da un Giovanni Tagliaferri antenato siamo arrivati a qualche centinaio di elementi di cui qualcuno è qui in sala e quindi e qui allora chiudo questa carrellata avevo paura di di non sapere cosa dire ma invece e vi ringrazio vi ringrazio Antonio con la tempistica sette minuti sei minuti però bellissimo perché hai assolutamente pochi no adesso invece entriamo nel vivo della mostra con appunto Piero Mosconi che davvero ha dedicato tempo amore passione dedizione è stata una cosa molto bella è molto quindi la parola grazie buonasera a tutti dopo questo escursus molto puntiglioso del del cugino Antonio tocca a me così illustrare a grandi linee il tema della 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 serata che non so se avete capito ma è la valle di scalve oltre ovviamente a Giovanni Tagliaferri che l'ha raffigurata con una sessantina di fotografie tratte da un suo archivio composto da ben 600 lastre numeri che attualmente fanno sorridere se pensiamo alle potenzialità di questo aggeggio ma che sicuramente rappresentavano per l'epoca un archivio di tutto rispetto come accennato prima la professoressa Boroni in Giovanni c'è un approccio direi professionale alla fotografia come attesta la qualità altissima non a detta del sottoscritto ma di chi se ne intende delle immagini raffigurate passa da un uso professionale indotto dalla necessità di servirsi del mezzo fotografico come strumento lavorativo ad un uso definiamolo ludico e questo uso ludico lo si ritrova ad esempio in quella sequenza di parenti a modi silhouette che è sicuramente un esercizio molto divertente anche se tecnicamente all'epoca innovativo e non di poco conto come ha ricordato Antonio Giovanni era nipote dell'illustre architetto di cui è stato detto scritto detto tutto per cui ovviamente lasciamo da parte questa figura che è stata definita giustamente un po' ingombrante che ha messo in ombra il nostro bisnonno che a memoria di mia mamma che ha avuto la fortuna di conoscerla era una persona estremamente mite e poco così piuttosto schiva ma comunque che denotava una certa sensibilità artistica acquisita ovviamente nell'ambito familiare che ha descritto Antonio un ambito dove la figura materna è mancata ma dove comunque c'era un cenacolo di artisti che sicuramente ha contribuito ad affinare la sua sensibilità io volto il foglio ma non sto assolutamente leggendo sto andando un po' abbraccio anch'io comunque dicevo che nelle foto esposte non ritroviamo foto professionali che si ritrovano semmai nell'archivio dagli afferri di Lonato che rappresentano le fasi del restauro un po' pesante secondo i canoni attuali comunque di restauro si trattava del broletto qua troviamo appunto immagini della valle ma soprattutto delle persone che in questa valle vivevano e lavoravano e troviamo processioni religiose e particolarmente toccante è una fotografia che così immortala immortala è un gioco di parole un po' infelice in questo caso un funeralino situazione molto ricorrente al tempo un'immagine proprio carpita si capisce quasi un'istantanea fatta con un mezzo del genere poneva anche dei problemi tecnici vedrete anche fotografie di montagna e ci si stupisce di come si potesse girare con un mezzo del genere eppure riuscire a scattare immagini di una certa suggestione e di una certa bellezza diciamo che queste fotografie rappresentano un corpus unico per il loro valore estetico e documentario che località turistiche ben più prestigiose del nostro Vilminone di Scarve possono vantare nella mostra troverete una piccola rassegna di disegni siamo ben lontani dalla verba artistica di Antonio però si ritrova in essi una certa una certa raffinatezza tecnica questi disegni risalgono per lo più al 1924 quindi in epoca posteriore alle fotografie sembra che Giovanni in questa fase avesse avuto nostalgia dei primordi e fosse tornato all'espressione così del disegno tra i disegni esposti ce n'è uno che ha un particolare valore documentario in quanto risale al 1923 e rappresenta l'abitato di Bueggio e sullo sfondo si vede la valle del Glino ed esattamente la diga del Glino non so se a voi evoca qualcosa questo nome esattamente il primo dicembre del 23 quella stessa diga che il bisnonno aveva rappresentato in piedi crollerà provocando lutti e devastazioni quest'anno ricorre e faccio un po' di pubblicità agli amici Scalvini l'anniversario il centesimo anniversario del disastro del Grino che è stato animato con vari eventi che proseguiranno appunto fino a dicembre di quest'anno credo di aver detto tutto ci auguriamo che questo nostro omaggio a Giovanni Tagliaferri e alla sua valle nostra valle sia di vostro gradimento grazie concludo ma davvero solo un secondo noi stiamo lavorando in questi ultimi due anni in fondazione anche nel recupero non solo proprio di queste cose specifiche che sono anche molto belle molto dettagliate ma stiamo facendo anche un lavoro sugli archivi e in particolare con l'archivio Caprioli che ci sta dando anche davvero e quindi ci sentiamo un po' con questa grande causa di fare da capofila a tanti bei ricordi a tante cose importanti anche filologicamente molto importanti e quindi ecco grazie perché poi ci comporta anche avere tutta tutta questa bella platea di persone che addio con 66 nipoti insomma la platea è già è già bella compattata però ecco questo è proprio un obiettivo un grosso obiettivo che ci siamo posti nel corso di questi due tre anni e quindi grazie a Don Filippini che è stato proprio il nostro gancio come si dice e naturalmente a tutti voi davvero grazie e ce la godiamo adesso purtroppo non ho e più quando parlava Piero non ci siamo messi d'accordo bene e non abbiamo coordinato la 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 proiezione di alcuni esempi di alcuni esempi che sono là da vedere che comunque questo qua è il famoso asilo di Vilminore intitolato a Teresa Tagliaferri la piccola la piccola bambina del Giovanni Tagliaferri morta a sette anni e qui come avevate forse visto c'è la diga del gleno che si intravede pochi mesi prima del crollo del crollo ecco e qui ci sono alcune delle foto che invece potrete vedere in dal vero ecco questa ecco forse Piero vogliamo far vedere questa curiosità è esposta questa fotografia fra quelle in mostra di questa giovane Bonicelli che qui imposa nel giardino di casa e che guarda caso è stata poi la fotografia io direi sicuramente la fotografia è stata usata per eseguire questo quadro dal pittore Bergamasco Gaudenzi perché vediamo messe a confronto che proprio sono una la riproduzione dell'altra ma probabilmente il quadro è la riproduzione della fotografia o la fotografia è stata fatta per fare il quadro non sappiamo e qui sono nel giardino della casa tagliaferri di Vilminore le educande che vanno in visita alla famiglia questa è la famiglia dei custodi della casa e questa è una bellissima fotografia della della nonna manziana che dà lezione di piano alla bambina che è la mamma di un paio di presenti in sala l'ha annunciata tagliaferri nella sala nella sala della casa di Vilminore questo probabilmente è il pianoforte che andava su e giù per la via Mala questa è la presolana vista dalla dalla casa di Vilminore qui dei soldati a Vilminore tutte le foto che potete vedere questa è la fotografia presa un po' rubata del funeralino che si avvia verso il cimitero una processione nella chiesa plebana di Vilminore definita delle quarantore la fiera tuttora a Ferragosto c'è la fiera a Vilminore e questa era la fiera nel 1894 questo è Schilpario e qui sono i paesi comunque vedrete se starete attenti nelle fotografie praticamente sempre è rappresentata la moglie la sposina che in viaggio di nozze veniva utilizzata come elemento elemento umano per rendere più viva la fotografia e qui ci sono tutte le varie frazioni di Vilminore e ci sono sempre poi spesso anche questi bambinetti che venivano reclutati per fare un po' di folclore e questo è Pezzolo il Pezzolo che abbiamo visto prima un secolo precedente questa è la cascina dei campelli che i Tagliaferri hanno ereditato dalla famosa ultima discendente del Capitanio sono una malga nei pascoli sopra Schilpario qui la malga di Polzone e qui vedete comunque è bella e la rivedrete più grande anche qui la sposina in viaggio di nozze viene mandata sul pizzo Tornello col suo bel vestito non proprio d'alpinista e vi prego pensare a come è stata fatta questa fotografia perché ci avrà messo almeno un'ora a organizzare a mettere il cavalletto fare su giù però alla fine l'effetto sembra un'istantanea sembra un'istantanea questa è la valle del gleno prima che venisse fatta la diga adesso qui c'è il laghetto e questo è il laghetto un laghetto sopra il minore anche qui con la con la nonna la sposa in primo piano e gli aiutanti che osservano e sono un po' un po' anche attori un po' attori e chiudiamo dimmi Piero prendi questo volevo semplicemente dire che in moltissime foto moltissime foto sono dei proto selfie nel senso che si vede Giovanni Tagliaferri per cui verosimilmente studiava l'inquadratura studiava l'immagine e poi ci si cacciava dentro avete presente Hitchcock che spesso e volentieri nei film faceva una compagnia ci teneva ci teneva infatti si vede grazie 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 grazie